Maria è il modello di una chiesa che serve, che esce dalle sue sacristie per accompagnare la vita degli uomini, gettare ponti, seminare e riconciliazione. Papa Francesco lo ha ripetuto con forza nel cuore mariano di Cuba, il santuario della Virgen della Carità del Cobre, a 20 km da Santiago, ultima tappa del suo viaggio nell'isola caraibica. Lunedì pomeriggio il pontefice ha raggiunto il santuario che custodisce la statuetta in legno della Vergine, proclamata nel 1916 da Benedetto XV, patrona di Cuba. Ha recitato una preghiera nella quale ha chiesto a Maria di fare della nazione cubana una casa di fratelli e sorelle, perché questo popolo spalanchi la sua mente, il suo cuore e la sua vita a Cristo. La mattina dopo Papa Francesco è tornato nel santuario circondato da Verdi Colline, dove si estraeva il rame, per celebrare una messa votiva e ha commentato l'episodio evangelico della visita di Maria alla cugina Elisabetta. Visitata dal Signore nell'Annunciazione, esce a visitare, a servire, perché la gioia di sapere che Dio è con noi ci tira fuori, ci porta a condividere la gioia ricevuta come un servizio. Questo, ha spiegato il pontefice, è vivere la rivoluzione della tenerezza come Maria. Con Maria vogliamo essere una chiesa che serve, che esce di casa, che esce dai suoi templi, dalle sue sagrestie per accompagnare la vita, sostenere la speranza, essere segno di unità. Una chiesa che esca per gettare ponti, ha concluso Papa Francesco, abbattere muri, seminare e riconciliazione, che sappia accompagnare tutte le situazioni imbarazzanti della nostra gente, senza nasconderci ma camminando con i fratelli.